A Fossò brucia un'azienda di smaltimento rifiuti, zaia, sveglia veneti, rischio di infiltrazioni mafiose sempre presente. Polemica a 5 stelle sulla cena di assessori a Palazzo Ducale la notte del Redentore è vietata da un provvedimento reggio. E alla messa solenne il patriarca ricorda i bambini uccisi a Nizza, la logica dei terroristi, dice, è la stessa dei Gulag. A Cavallino spuntano le gambe di un cadavere in avanzato stato di decomposizione e il terzo ha ripescato in mare in soli due giorni. E in mare è stato cercato per un'intera notte anche un trevigiano scomparso da Pontuffo a Lido e era tornato a casa senza avvisare nessuno. Urlavano come pazzi in preda al terrore, un gruppo di americani stato soccorso dai vigili del fuoco a Poveglia erano convinti, pensate, di essere stati aggrediti dai fantasmi. E il primo test sul campo per il nuovo Venezia di Pippo Izzaghi che in amichevole ne mette ben otto alla vianese. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Venezia. È una situazione preoccupante quella sollevata dalle indagini sull'incendio di domenica a Fossò. Ne ha parlato con noi anche il governatore Luca Zaia che stamattina era ospite proprio a Sveglia Veneti. Inquietanti i primi riscontri delle indagini sull'incendio che ha distrutto nella notte tra sabato e domenica un capannone, un deposito di legname e quattro tir dell'azienda Nuova Ecologica 2000 di Fossò specializzata in raccolta rifiuti. A originare il rogo partito da diversi focolai sarebbe stato un commando di incendiari come dimostrano le diverse tanniche di benzina e gli stoppini ritrovati sul posto. Le indagini delle autorità giudiziarie appuntano su un atto intimidatorio da parte di un presunto racket legato al settore dei rifiuti anche se il titolare dell'azienda afferma di non aver mai ricevuto avvertimenti di alcun genere. Si parla di danni per circa mezzo milione di euro. A commentare la vicenda anche il governatore Luca Zaia, ospite in mattinata a Sveglia Veneti. Lo scenario non è sicuramente tranquillizzante. Si va male a esprimere considerazioni su dei fatti che non conosciamo approfonditamente e soprattutto non conosciamo la genesi. Però diciamo che il rischio di infiltrazioni mafiose e malavitose in un territorio che è ancora considerato un territorio florido per la delinquenza è un fatto reale. La necessità di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata è evidente a chiunque lega periodicamente i rapporti dell'antimafia, afferma il governatore. Il rischio che alcuni settori della nostra economia cadano preda di bande provenienti da altre zone del paese negli anni può diventare micidiale. Ci vuole rigore ma il rigore in un paese come il nostro dove non esiste la certezza della pena, dove non c'è inasprimento della pena e dove mandiamo in giro le forze dell'ordine con il Galateo invece che mandarle in giro con il Manganello, penso che sia difficile tenere l'ordine. Le polemiche del giorno dopo fanno parte della tradizione del Redentore, un po' come i bovoetti e le sarde in saor. Quest'anno abbiamo i Cinque Stelle che se la prendono col sindaco e gli assessori per una cena a Palazzo Ducale fatta proprio quella sera. Pensate c'è un reggio decreto, niente di meno che dire Vittorio Emanuele III che dice che questa cosa non si può fare. A Palazzo Ducale per la festa del Redentore Vela ha organizzato una grande cena tradizionale dedicata agli sponsor della città. Il problema è che innanzitutto vi è una concessione che risale al 1924 del Ministero di allora del De Magno che dà al Comune di Venezia la concessione del Palazzo Ducale, però dove si vieta espressamente di organizzare feste e cene. Il documento, sventolato trionfalmente dal consigliere a Cinque Stelle Davide Scano, è datato 4 marzo 1924 e porta la firma di Sua Maestà Vittorio Emanuele III per volontà di Dio e per grazia della Nazione Rai d'Italia. Tra le sue righe si vieta espressamente al Comune di Venezia di destinare Palazzo Ducale, di proprietà della Corona, feste e concerti. Un provvedimento che non è mai stato abolito, sostiene Scano, perciò abbiamo presentato un'interrogazione a Caffarsetti per chiedere conto del loro comportamento a sindaco e assessori che la sede del Redentore hanno cenato, ospitati da Vela, proprio nella residenza dei Doggi insieme alle loro famiglie. Non si tratta soltanto della violazione di una legge, per quanto antiquata, sostiene il grillino, ma di una questione di principio. Non capiamo cosa abbiano di diverso dagli altri cittadini, gli assessori e i loro familiari per potersi permettere di utilizzare in esclusiva un patrimonio di tutti, come Palazzo Ducale, per le loro cene tra amici. Troviamo che sia del tutto irriguardoso verso i comuni cittadini di Venezia. Riteniamo che il sindaco abbia fatto molta più bella figura l'anno scorso, quando a piedi ha girato per la Giudecca, fermandosi ai vari tavolini delle persone comuni a salutare, a bere un'ombra, a mangiare i boboeti insieme, piuttosto che fare il degno erede di orsoni, costa e cacciari e mangiare all'interno delle mura chiuse del Palazzo Ducale. In attesa che Sua Maestà ci faccia pervenire la sua indignazione, vi diamo un po' di numeri di questo Redentore. Sono i numeri diffusi da ACTV riguardano l'attività straordinaria della compagnia. Durante la tradizionale festa del Redentore, tutta l'azienda infatti è stata coinvolta in corse straordinarie. Nel dettaglio queste corse sono state 233 in più per quanto riguarda il servizio automobilistico, mentre per il settore navigazione tra sabato e domenica complessivamente sono state effettuate 70 corse bis. Ricordiamo che anche i percorsi sono stati diversi e ci è dovuta gestire la situazione in occasione della regata. Il People Mover invece nel weekend ha complessivamente trasportato 16.500 persone, di cui 9.500 nella notte del Redentore e oltre 7.000 nella giornata di domenica. Redentore è una grande festa, ma soprattutto, almeno in origine, lo era un'occasione religiosa. Allora sentiamo che cosa ha detto il Patriarca in questa circostanza. Naturalmente il pensiero non poteva non andare ai drammatici avvenimenti di questi giorni. La nostra preghiera è oggi per tutte le vittime del terrorismo, ma in primis per i bambini della strage di giovedì sera a Nizza e i loro familiari. Di fronte a un gesto così terribile di odio ci sentiamo sgomenti e invochiamo la grazia della conversione e il ritorno a un senso di vera umanità. Le parole del Patriarca Francesco sono state pronunciate durante l'Omelia della Messa Solenne per il Redentore. Il tema del terrorismo, accanto a quello dell'immigrazione, è stato al centro anche della preghiera finale, composta da Moraglia per l'occasione. Il terrorismo, recce da un brano di questa preghiera, esprime la logica dell'umanità che si sostituisce a Dio e pensa ad essere in grado di salvare la storia. È la logica dei campi di sterminio e dei gulag, è la forma crudele di una guerra diffusa che non si ferma dinanzi a nulla e tutti ovunque vuole colpire. Nella stessa occasione il Patriarca ha commentato il recente sfregio di un crocifisso del Settecento compiuto da un nord africano nella chiesa di San Geremia. Scagliarsi contro il crocifisso, ha detto, significa profanare quegli stessi valori che proprio il crocifisso, al di là del suo significato religioso, ha originato nella nostra cultura e ancora oggi tiene desti nella nostra società. L'accoglienza, il perdono, la riconciliazione e la misericordia. Per questo certi tristi episodi, al di là della persona e delle motivazioni che l'hanno accompagnata, vanno vagliati con attenzione ed è opportuno che sia tutta la società a prenderne le distanze, a cominciare dalle comunità religiose, perché non manchi mai il rispetto e il riconoscimento reciproco. Macabra scoperta fatta stamattina da un passante in località Cavio al Cavallino, vedete intorno a questi scogli ha visto qualcosa, ha avuto il sospetto che si trattasse di un cadavere, purtroppo questo sospetto è stato confermato, è intervenuta immediatamente la Capitaneria di Porto insieme ai Vigili del Fuoco, il cadavere è in avanzatissimo stato di decomposizione e di fatto sono state recuperate solo le gambe come parte intera di questo cadavere, quindi è anche molto difficile l'identificazione, il corpo, la parte inferiore del corpo è ravvolta a una rete da pesca, per il momento non ci sono particolari sospetti, ma comunque si dovrà identificare questa persona. E' il terzo cadavere in soltanto tre giorni che è emerso dalla laguna. Una domenica infatti due persone erano morte in mare, la prima poco dopo le 14 alla spiaggia del Lido, un bagnante Alessandro Graffini di 74 anni, ex console italiano a Friburgo, purtroppo è annegato probabilmente in seguito a un malore e la stessa cosa è accaduta proprio nelle stesse ore a un pescatore di 77 anni di Burano. Qualcuno invece che finisce in laguna, anche in maniera impropria, per fortuna viene salvato o in qualche modo riesce anche a salvarsi da solo, magari si avvisa evitiamo di sprecare risorse pubbliche come è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. Complice il clima della festa, il senso di responsabilità di molti se ne è andato in vacanza la notte del Redentore, costringendo i pompieri a fare gli straordinari. Il primo intervento intorno alle tre e mezza del mattino per un giovane 26enne che non era più riemerso dopo un tuffo con degli amici a Lido davanti al locale Blue Moon. Le ricerche sono andate avanti fino all'alba con la mobilitazione delle squadre dei sommozzatori e dell'elicottero quando si è avuto notizia che il disperso l'ha tranquillamente rientrato a casa sua a Villorba. Alle 6.20 nuova chiamata dall'isola di Sant'Elena per una barca di 8 metri con 19 persone a bordo, rovesciatasi e inabissatasi sul fondo. I naufraghi sono stati tratti in salvo da alcune imbarcazioni di passaggio. I pompieri arrivati sul posto con tutte e tre le autopompe lagunari hanno preso in custodia i naufraghi e li hanno consegnati al personale del 118 per le cure. Stavano tutti beni e nessuno è stato ricoverato. E' come se non avessero avuto abbastanza lavoro i vigili del fuoco in questo fine settimana che vi abbiamo raccontato nella prima parte del nostro giornale, sono dovuti intervenire anche per salvare degli americani dai presunti attacchi dei fantasmi. Questo è successo a Poveglia. Singolare intervento nella notte tra sabato e domenica dei vigili del fuoco di Venezia per portare in salvo dei turisti americani che gridavano aiuto dall'isola di Poveglia. L'allarme è stato dato dall'equipaggio di una barca a vela che transitava nelle vicinanze attirato dalle urla dei 5 ventenni. Arrivati sull'isola i vigili del fuoco hanno caricato a bordo dell'autopompa lagunare gli spaventati e suggestionati turisti e dopo averli tranquillizzati li hanno portati in terraferma. I 5 ragazzi americani del Colorado si erano fatti portare a Poveglia da un taxi acqueo per trascorrere la notte alla ricerca di fantasmi. Questi spiriti che hanno visto probabilmente si trovavano anche in qualcosa che avevano bevuto non fate assolutamente come questi turisti americani. Andiamo a Sottomarina dove c'è stato purtroppo un incidente sul lavoro. Incidente sul lavoro in mattinata a Sottomarina. Per causa ancora da accertare un'impalcatura è crollata mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione su un edificio. Due operai che si trovavano all'altezza del secondo piano sono quindi caduti a terra. È successo in vicolo sirena all'altezza dell'incrocio che collega all'arena Eleonora Duse. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che si è preso cura dei feriti e li ha trasportati al pronto soccorso non sarebbero in pericolo di vita. Continuiamo la nostra opera di informazione in merito ai vantaggi e gli eventuali svantaggi dell'autonomia in vista del referendum che si terrà probabilmente in autunno. Oggi vi proponiamo i dati che ha raccolto Union Camere insieme alla Regione del Veneto. Noi abbiamo dimostrato oggi con lo studio che una maggiore efficienza pubblica amministrazione passa attraverso un decentramento delle competenze statali secondo l'articolo 116 a favore delle regioni virtuose mentre invece bisogna che a livello statale vengano centrate le competenze nelle regioni non virtuose. Quindi abbiamo diviso praticamente secondo alcuni parametri le regioni che sanno gestire il denaro pubblico molto bene da quelle che invece sprecano denaro pubblico. Il rapporto di ricerca sul regionalismo differenziato è stato realizzato dall'Osservatorio sul federalismo e la finanza pubblica in collaborazione con Union Camere del Veneto e Consiglio regionale. I dati dimostrano che con l'applicazione dell'autonomia differenziata nelle regioni virtuose come Veneto, Lombardia ed Emilia e la migliore gestione statale delle risorse nelle regioni non virtuose si otterrebbero maggiori entrate fiscali, migliori servizi e minore debito pubblico. E quindi il nostro auspicio è avere un Paese Italia dove non si fa di tutto un urban fascio cioè se una regione non funziona si tolgono competenze anche a quelle che non funzionano. No, bisogna differenziare e quindi le regioni che non funzionano tutela dello Stato. Quelle che funzionano devono avere il più possibile di autonomia e quindi il maggiore decentramento possibile. Applicando lo schema di governo con autonomie regionali differenziate per l'Italia secondo lo studio si otterrebbero benefici pari a oltre 10 miliardi di euro all'anno. 5,8 di aumento di pile e 4,4 risparmiati grazie alla tutela centrale nelle regioni non virtuose. Ricentralizzare come quello che sta facendo questo governo è assolutamente antistorico è fuori da ogni logica e anche contro le dinamiche europee che in questo momento invece vedono tanti Stati che stanno portando verso il decentramento maggiori risorse e competenze e anche appunto autonomia maggiore. Quindi questo è uno strumento che ci servirà a spiegare ancora una volta e di più si serve che è importante dare al Veneto il grado di autonomia che i Veneti sentono di meritarsi e che sapranno sicuramente ben gestire. È il momento di un sorriso con gli amici dello Schitto. Un colpo di Stato in versione farsesca per sdrammatizzare i tragici eventi della Turchia è stato immaginato dai sempre prolifici redattori dello Schitto, il quotidiano satirico della politica locale veneziana. Al centro della rivolta naturalmente Caffarsetti occupata dai dipendenti comunali in ribellione contro il sindaco e le sue inaccettabili pretese di costringerli a lavorare. Tre richieste di asilo a quarto d'altino, reazioni immediate del Partito Democratico che al solito convoca assemblee urgenti per l'anno 21 e multe della Municipale e carri armati in doppia fila alla surreale cronaca proseguita per lunghe ore sui social network suscitando l'ilarità dei veneziani. Certo battere la vianese non è quello che si dice propriamente un'impresa calcistica neanche se si vince 8 a 0, quello che è importante però è che questa squadra questo Venezia nuovo, non solo nuovo per il suo allenatore Pippo Inzaghi ma nuovo anche in gran parte dei giocatori, sembra che funzioni, sembra che si trovi bene affiatato vediamo il servizio. Primo test per il nuovo Venezia di Super Pippo Inzaghi che ha affrontato in amichevole i direttanti della vianese rifilando loro 8 gol senza prenderne nessuno poco più di una partita di allenamento ma importante spiega il mister per provare gli schemi e l'affiatamento di una squadra quasi completamente rinnovata. Sono contento, insomma oggi siamo venuti a giocare al caldo però ho visto delle buone trame, insomma hanno fatto, lavoriamo da poco su 4-3 però ho visto delle buone giocate, dei bei gol insomma siamo sulla strada giusta però la cosa che mi lascia più serena è che ho trovato un gruppo che ha grande voglia di lavorare a cui piace lavorare in questo modo e si vede per cui insomma sta a me e il mio staff continuare su questa strada. Il ritiro sta andando bene, la risposta alle novità introdotte dall'ex bomber bianconero è positiva ma per la vera prova del fuoco bisognerà attendere i primi appuntamenti ufficiali ad ogni amichevole dobbiamo crescere sempre di più sostiene il mister per cercare di arrivare al 28 agosto pronti per l'inizio del campionato anche se prima ci sarà la Coppa Italia, un appuntamento puntualizza a cui teniamo molto l'importante in questo momento è creare un gruppo forte. Vedo che la squadra sta volentieri insieme, li vedo giocare a carte, li vedo che non vedono l'ora di allenarsi tutti i giorni, li faccio correre tanto però non si lamenta nessuno, questo deve essere lo spirito perché chi non è così con me non gioca. Questa sera alle 21.05 l'appuntamento è con Iceberg, il tema è ancora una volta quello della strage di Nizza con tutte le immagini, vi diciamo alcuni degli ospiti, Vincenzo Pelufo del Partito Democratico, Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, Mariam Ismail antropologa, Silvia Sardone di Forza Italia e Renato Mannheimer, il noto sondaggista. Ci fermiamo qui da Venezia, buona serata. Grazie a tutti.